Allora, com'è andata l'asta per i bambini della Siria? Potrei dire bene, benissimo, io direi benissimo, veramente Lino, è stata una grande serata, veramente una grande serata con una grande partecipazione di pubblico, che poi non era un pubblico, era qualcosa di più, erano acquirenti per questi quadri. Credo che sia stata una delle più belle serate che abbiamo realizzato qui a Fano. Siamo veramente tutti soddisfatti, lo è Rotary, devo sempre dire, e grazie a Massimo Seri che è sempre presente in questi eventi qua, in queste manifestazioni, e abbiamo messo come al solito un altro tassello per dare un po' di speranza ai nostri piccoli bambini siriani. Che cifra siete riusciti a raccogliere? Siamo intorno ai 4.800 euro, insomma, il che non è poco di questi tempi, puoi immaginare. Una cifra come 4.800 euro ci dà una bella mano per la scuola, chiaramente.